Il sequestro del piazzale dell'ex Filanda d'Andrea di Sarno ha colto di sorpresa cittadini e amministratori. Il sindaco Giuseppe Canfora, dopo qualche giorno di riflessione, ha detto la sua rispetto all'intervento di sequestro operato dai carabinieri di Sarno in collaborazione con la Polizia Giudiziaria della Procura di Nocera Inferiore, guidata dal luogotenente Massimo Santaniello. I carabinieri hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP Pacifico su richiesta del PM Lenza riguardo l'area dove si sta costruendo un parcheggio e dove prima invece vi era uno spazio verde con tanto di giardino e alberi, che secondo la Procura non potevano essere abbattuti. Oltre a una parte del piano terra dell'immobile dove sono in corso lavori per la realizzazione di un market che non sarebbero in linea con la concessione rilasciata dal Comune. Ai proprietari dell'immobile in particolare viene contestato che l'area destinata a parcheggio è in contrasto con le norme tecniche di attuazione del piano urbanistico comunale adottato dalla Giunta Mancusi nell'aprile del 2014 e nel quale vengono tutelati in particolare gli spazi verdi. È una struttura che deve essere riqualificata. La mia posizione è sempre stata estremamente chiara fin dall'inizio. Non avrei mai permesso in passato una cosa di questo tipo, cioè nel senso che avrei fatto di tutto per acquisirla al patrimonio comunale. Questo non è stato. Oggi c'è un'attività privata che è il rispetto, per l'amore di Dio. Anzi, è comunque un edificio che sta al centro della città. Dobbiamo renderlo vivibile. Anzi, prima lo si rende vivibile e meglio è per la città stessa. Altrimenti da un punto di vista urbanistico rimane un altro scatolo senza nessun significato. Insomma, i contenitori sono fatti per metterci dentro contenuti, altrimenti sono altre zone morte della città. Poi, nella fattispecie, io non so quali possano essere stati i motivi per cui è stato messo sotto sequestro il piazzale. Voglio sperare che la società possa dissequestrarlo rapidamente e continuare i lavori.